per pagare le tasse chi il finanziere benessi a cura dvb per pagare le tasse ti basterà vendere l'appartamento di via del vigneto disse massimo alla nonna massimo era infastidito il decreto del governo aveva creato altre tasse e adesso esisteva il pericolo che per pagarle la nonna dovesse vendere un immobile erano soli nel grande appartamento della nonna insieme ai due chihuahua che la madre di massimo aveva lasciato prima di partire per l'america la nonna era irritata e stupido disse buttare via tanti soldi per le tasse allora vendi il meno che puoi e ritirati in svizzera disse massimo mia madre se n'è andata mia sorella non ti vuole nemmeno vedere perché mantieni tutti questi immobili per me fanne a meno lo sai perché disse la nonna massimo l'anticipò per lasciarli in beneficenza a che ti serve fare beneficenza se sei dura come una pietra veramente massimo pensò che anche la madre la sorella e anche lui tutti in quella famiglia erano di una durezza sublime ancora una volta convenne che la sua era una famiglia istintiva pensò ai suoi nipotini che aveva rivisto pochi giorni prima tutti sottili biondi e indifferenti pagabili ma incomparabili si rigidì fece un cenno con la mano e si ributtò indietro erano nell'appartamento di cava grossa molto buio anche se l'appartamento dava su un basso giardino la nonna esprimeva così la sua ansia di misticismo pregava da sola in un corridoio vuoto che separava due stanze minuscole e quasi prive di arredo c'era un divano rosso e sul tavolo antico una bottiglia di vino l'unico strappo della nonna alla sua presunta spiritualità infatti molto tempo dopo massimo seppe dai maestri immateriali che la vera evoluzione non è mai la fuga nell'alcol e nelle droghe e nemmeno negli psicolettici ma la celebrazione quotidiana dell'altro